Saranno state le politiche economiche e finanziarie, la debolezza strutturale delle istituzioni politiche o la crisi di natura etica troppo infestata da utilitarismo e materialismo a mandare in tilt l'economia? Domande a cui hanno cercato di rispondere i professori Domenico D'Empoli e Antonio Papisca, illustri relatori e voci autorevoli dell'economia nel panorama nazionale. Al convegno di studi promosso col patrocinio della provincia dall'Istituto Superiore Europeo di Studi Politici guidato dall'avvocato Raffaele Cananzi, è stata riproposta l'idea mai tramontata di un'autorità sovranazionale baluardo contro gli egoismi statali, le speculazioni dissennate e garante della redistribuzione della ricchezza e di uno sviluppo armonico ed equilibrato. Mi sembra un'idea molto suggestiva e un'idea certamente da discutere, da valutare, da diffondere. Temo che la sua applicazione non sia per il momento immaginabile perché la solidarietà tra le nazioni non è molto sviluppata. Si dice, per esemplificare la globalizzazione, che uno starnuto si avverte anche dall'altra parte del mondo. Il nostro pianeta, infatti, è diventato sempre più piccolo, i popoli che lo abitano sempre più vicini, gli stati sempre più interdipendenti e il destino sempre più comune. Per queste ragioni, ha osservato l'assessore provinciale alla cultura e difesa della legalità, Lamberti Castronuovo, servono collaborazione e nuova solidarietà, pur sapendo che le problematiche sociali ed economiche non saranno mai definitivamente risolte. E solo tenendo ben saldo il gancio ai grandi valori, ha detto il presidente della provincia, Giuseppe Raffa, che potremmo uscire dalla crisi meno stremati e con una buona dose di speranza nel futuro. L'Unione Europea ora deve mettersi in un'ottica di un'economia di mercato guidata, ma fortemente guidata. Quindi ritorna il tema del governo dell'economia e in particolare, oggi con urgenza, il governo della moneta. Quindi, in termini molto concreti, la Banca Centrale Europea deve essere una banca centrale, come noi conosciamo, tradizionalmente in seno agli Stati.